Siamo a Vita da Pacos, il bioparco sociale che si trova sul colle Ardizio nelle immediate vicinanze sia di Pesaro che di Fano. Cosa siamo venuti a fare? Siamo venuti perché ci ha chiamato la direzione di BCC Banca di Pesaro che oggi tiene qua la sua quinta convention dipendenti. Andremo a capire perché è stato scelto questo posto, andremo a conoscerlo e farvelo conoscere, andremo ad ascoltare dalla viva voce degli organizzatori di questa giornata così importante per l'Istituto Pesarese di cosa si tratta, quali sono i contenuti e soprattutto anche perché si è scelta questa location così inusuale. In occasione della nostra quinta convention abbiamo portato i miei collaboratori e tutte le risorse umane a Vita da Pacos. Una cosa diversa rispetto alle solite convention dove si si aspetta una cosa formale, belli hotel, bel posto. Siamo andati in un bellissimo posto in Natura. Natura che vuole essere un messaggio nuovo che vogliamo dare al territorio, ai nostri soci e ai clienti, dove la banca incontra l'ambiente. Perché noi come banca di credito cooperativo abbiamo la nostra missione, oltre ad essere un buon istituto finanziario, dobbiamo essere anche promotori delle nuove cose che stanno succedendo nell'ambiente, ma soprattutto sui rischi climatici che purtroppo non pochi giorni fa abbiamo dovuto ancora una volta vedere e ricorrere con delle emergenze importanti. I ragazzi si stanno impegnando tantissimo, noi siamo molto soddisfatti. È una banca che vuole crescere perché vuole conquistare maggiori quote di mercato. L'impegno che mette la direzione, tutta la formazione che si sta facendo, anche in occasione di questi momenti che sono formativi e nello stesso tempo di incontro per fare squadra. Noi ci stiamo riuscendo, perlomeno i risultati negli ultimi due o tre anni stanno venendo e risultati importanti. Questi risultati importanti permettono alla banca di patrimonializzarsi e quindi di ribustirsi e di fare tutte quelle iniziative sul territorio, il nostro territorio di peso. Non abbiamo filiali, non abbiamo dimensioni che spaziano da più province. Noi siamo nella provincia di Pesaro e quindi questo è il nostro territorio perché le banche di credito cooperativo che fanno parte di un capogruppo devono lavorare bene nel loro territorio. Se lavorano bene nel loro territorio riescono a portare a casa quei risultati che le grosse banche che si spaziano per territoriali, perché oggi se sentite qualsiasi intervista la più grande dice siamo una banca del territorio. Non è vero, le banche del territorio siamo noi, le BCC e le casse rurali. Quindi questo è il nostro obiettivo, la nostra mission e cercheremo di portarla avanti il più possibile. I ragazzi si stanno formando, il clima è bello, noi siamo soddisfatti e quindi non possiamo che augurarci un futuro buono.